Grazie a tutti. Io credo che la forza di una democrazia non è l'attenzione alla maggioranza, ma l'attenzione alle minoranze. La maggioranza non ha bisogno di tutele o di difesa. E credo anche che in un momento in cui in tutta Europa si alzano muri, fili spinati, in cui sembra che uno debba tornare a essere ariano perché qualunque altra minoranza viene vista con sospetto, però riscendere in piazza e provare a dire che no, che noi siamo per le società aperte, siamo per l'integrazione regolamentata, siamo per il rispetto delle minoranze, io credo sia un messaggio molto forte e soprattutto molto molto necessario. Da sempre i radicali comunque si occupano delle minoranze, si può dire che mai più di oggi probabilmente c'è bisogno di un ritorno al passato dalle battaglie radicali, che si sono sempre state, ma le minoranze sono queste, le minoranze siamo noi, le minoranze ci saranno sempre. Ripeto, perché noi ci occupiamo di democrazia e la democrazia è tutela rispetto delle minoranze, la maggioranza ovviamente non ha bisogno di queste difese e di queste tutele. È chiaro che, sì, so che il Dalai Lama è a Milano settimana prossima, ed è chiaro che questo è un momento molto molto difficile, in cui chiunque sia non europeo viene visto con molto sospetto, con indifferenza sempre, ma adesso anche con grandissimo sospetto. Proprio per questo credo che questo sia anche un anno molto particolare della disintegrazione dei valori europei e anche un po' nel nostro paese. Ma Bonino comunque da sempre ha girato il mondo, non soltanto l'Europa e ha visto delle situazioni extraeuropee che ha riportato in Italia. Lo vogliamo dire questo? C'è comunque l'impatto extraeuropeo? No, questo è quello che ho cercato di fare da militante radicale o quando sono stata commissaria oppure ministro, perché credo a questa cosa e credo che ognuno, vedo qui il sottosegretario Benedetto della Vedova, non a caso, e credo che in qualunque compito uno sia tenuto a impegnarsi o nelle istituzioni, eccetera, questo DNA non va dimenticato. Quindi il DNA radicale c'è sempre e c'è comunque? Esattamente.